Amici di Youtube e di Instagram, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento con l'edizione giornaliera. Siamo ritornati alla base da Milano, Inter alle stelle, Gazzetta dietro e ci siamo e torniamo sempre presenti. Mi raccomando ragazzi prima di iniziare un bel like, un'iscrizione gratuita ovviamente che accolgo veramente con grande contentezza e mi raccomando poi vado a confrontare il sito barzacom.it per tutte le news attendibili di mercato, sana informazione, ultimi giorni di mercato. Bisogna assolutamente spingere e andare a controllare tutte le ultime news con Tesman a Lione fatta, tutte le altre news su Chiesa che sembrerebbe che abbia aperto al trasferimento al Barcellona e mi raccomando seguite anche battitointer.it per tutte le news attendibili e importanti, sempre di sana informazione sul biscione dell'internazionale. Allora ragazzi buon giorno a tutti quanti, buongiorno, benvenuti a tutti, è appena finita una domenica di campionato, oggi si chiuderà la giornata, la seconda giornata con Cagliari-Como alle 18.30 e poi stasera i Gobbi che affronteranno il temibile Verona che ne ha date tre al Napoli. Insomma, iniziamo un attimo con il giudizio sulla, ancora qualche parolina sulla partita dei ragazzi di sabato, poi parleremo di tutte le news e faremo anche un mini commento sulle partite di ieri. Una Roma deludente, un Esposito che manda al Bar Mancini e Paredes e si procura un rigore. Seba Esposito, l'ho detto quest'anno, secondo me andrà in doppia cifra da prendere al fantacalcio, assolutamente infatti, guarda caso. Già due partite, la prima prende il premium VP e la seconda cambia la gara dalla panchina. E qui, forse un pensierino, io, vabbè, ce l'avrei fatto, io ho un debole per Seba, mi piace tantissimo. Certo, magari dal punto di vista comportamentale qualcosa deve migliorare, perché anche all'Underlecht ha fatto il bello del cattivo tempo, ma un Seba Esposito così al posto di Correa, come quinto attaccante, non ci faceva comodo, ci faceva comodissimo. Almeno un giocatore di stazza, veloce, che dà quell'imprevedibilità che tanto ci serve, tanto ci manca nelle riserve. Un giocatore che avresti potuto iscrivere alla lista UEFA, essendo del nostro vivaio. Vedremo poi in questi ultimi giorni di mercato se riusciremo a piazzare Correa, la vedo veramente, veramente dura. Ormai interessamenti sfociati, quelli della EKTN, delle Studiantes, rifiutato proprio dal giocatore. Genoa e Roma non sono mai state squadre interessate al giocatore. Sì, piaceva un po' il Gilardino, ma nulla di più. Quindi una grana Correa che ci dovremmo tenere. Sì, spera di no, però vediamo, attendiamo risvolti. Comunque, quindi, sulla partita di sabato, innanzitutto c'è da aggiungere anche che poi ho sentito un po' di cose, anche da qualche tifoso, no? Chiaramente parlano sempre i tifosi da social, perché i tifosi da stadio, i tifosi passionali, o i tifosi che, come a me, magari sono sì da stadio, ma poi analizzano sempre le situazioni. Ormai ne sono rimasti pochi, ormai si punta tutto sull'estremismo. Ormai io sto sentendo delle crociate anti Arnautovic, che fanno schifo. Ieri e sabato il ragazzo è entrato molto bene, con grande piglio, con grande voglia. Stava già rischiando di segnare il gol del 3-0 alla prima palla che ha toccato di testa. Continuo a ripetere che avere una quinta o quarta punta, come Marco Arnautovic, ha un lusso, contando il parco attaccanti che hai quest'anno. Oggi, come dice la Gazzetta, noi ricordiamo che Taremi Turam e Lautaro li hai pagati in 3,25 milioni, ovvero solo il cartellino di Lautaro quando l'avevamo preso dal Racing, perché poi per Taremi e Turam sono arrivati a 0, 400 gol in 25 milioni. Perché se andiamo a sommare i 156 gol di Lautaro, gli 80 di Turam e i 195 di Taremi, siamo più o meno sui 400 gol per un reparto offensivo che è sempre più completo e quest'anno veramente... continuo a ripetere che ci divertiremo, ci divertiremo dal punto di vista che comunque Turam quest'anno dovrà essere e sarà a tutti i costi l'anno della consacrazione. Sul capitano non abbiamo nessun dubbio. Continuerà a fare faville e a dominare, essendo poi chiaramente il giocatore più pagato e più forte degli 11 titolari. Il giocatore più forte dell'ultimo campionato non a caso, quindi sempre un reparto in crescita. E poi hai un Taremi che si continua a dimostrare un attaccante intelligentissimo dal punto di vista tattico, molto raffinato con i piedi. Abbiamo visto già in un primo tempo dove ha veramente fatto la differenza dal punto di vista dei controlli, degli appoggi. Un giocatore che vede prima di tutti le giocate e abbiamo visto anche nel primo tempo quando veniva a fraseggiare con Turam, nonostante sia stata la prima partita insieme della coppia d'attacco tuta, Turam-Taremi, hai visto però già delle geometrie importanti, dei fraseggi, degli scambi tra i due molto molto rapidi, quindi cosa non da sottovalutare perché ricordiamo che Taremi non sapeva nemmeno come fosse fatta la Serie A, veniva da un altro calcio, un altro campionato e al porto l'arciere persiano, come da me soprannominato, lo chiamavano, com'è che lo chiamavano? Lo chiamavano in brasiliano, praticamente lo chiamavano un piccolo insetto, bicigno, in grado di ronzarti intorno e darti fastidio e pungerti, no? E quindi chi lo ha seguito da vicino lo ha paragonato un po', come ho sempre detto io, con i veri numeri nove che attaccano tutta l'area, che attaccano la profondità, centroavanti, registi offensivi come Dzeko, per esempio Inzaghi aveva fatto il paragone con Close, che ha allenato la Lazio, più o meno il profilo è quello lì, è un giocatore che quindi poi già hai visto nell'assist che mette per Darmian, a Genova il 2-1 di Turam viene da lui che libera lo spazio per far inserire Frattesi e fare il Daihavai con Turam e poi la mette dentro Ticus, ma ripeto ancora che poi era la prima, ma hai già visto comunque come si intende bene con Turam ed è un attaccante da quel punto di vista lì, molto completo, un po' come Dzeko che sa giocare benissimo, non sia con una seconda punta che con una prima punta, quindi il vero colpo di mercato dell'Inter si chiama Meditaremi, poi i tristoni da mercato, i tifosi da mercato, i mercatari, quelli li lasciamo da un'altra parte, anche perché se tu oggi guardi la gazzetta, quando eravamo piccoli noi guardavamo sempre la gazzetta, da il lato delle formazioni, dei nuovi acquisti, tutti quando eravamo bambini sfido chiunque, ma tutti magari quando erano al bar o i loro genitori prendevano il giornale all'edicola, andavano sempre a guardare la pagina delle formazioni con i nuovi acquisti, tutte le squadre, le cessioni, gli acquisti e l'Inter ad oggi. Riconfermato la squadra della seconda stella, il che è già un grandissimo passo in avanti, in un'epoca di calcio come quella di oggi, del calcio italiano, la situazione economica che sta vivendo il calcio italiano, è già un grande punto di forza aver riconfermato il blocco della seconda stella, quel gruppo tanto affiatato, che abbiamo visto festeggiare a più non posso la scorsa primavera, ma che poi sta continuando a festeggiare anche ad oggi, basta vedere poi la partita contro il Lecce, insomma, c'era un clima di festa San Siro, c'era un clima di festa, sembra veramente che la stagione scorsa non sia mai finita, e questo dal punto di vista delle motivazioni deve essere un punto in più, un surplus e non un adagiarsi, torna a Milano inizio già Tostira, non adagiarsi sugli allori, comunque, veramente, insomma, poi anche lì della partita, certo, è normale che nel secondo tempo hai avuto più un calo fisico, nel primo tempo invece hai sfruttato, insomma, la grande condizione di Taremi, che ha fatto una grande partita, Turam, Mkhitaryan, Undi Marco, che nel primo tempo ha fatto benissimo, poi nel secondo tempo si è un po' accasciato, era un po' appesantito anche lui, però se dobbiamo andare a vedere poi il secondo tempo, ripeto ancora, è sempre il calcio di agosto, la preparazione rimane quella che è, i migliori, quelli più in forma dal punto di vista fisico, sono Barella e Turam, e si riconfermano ancora i migliori in forma, per la condizione fisica che detengono, anche con il Genoa, si sono visti i due che spiccavano su di tutti dal punto di vista fisico, infatti anche ieri, anche sabato, poi l'hai visto soprattutto nel secondo tempo, quando la squadra veniva un po' a calare dal punto di vista dell'intensità, e quella giocata lì di Barella, che gli mette quella palla lì, quella palla veramente d'oro, quel cucchiaio per Turam, che è davanti alla porta, poi se lo mangia clamorosamente, simile alla palla che ha messo Kovaraschelia ieri per Di Lorenzo, per il gol del 1-0 del Napoli, contro il Bologna, grandissima palla di un giocatore, ancora uno che tecnicamente è uno dei più forti del nostro campionato, Kovaraschelia, e a differenza di quel cesso che gioca a Milanello, con le treccine e con i cappelli della New Era, pronto a fare il rapper, e stendiamo un velo pietoso, detto ciò, quindi è giusto che anche per esempio l'anno scorso, l'Inter si presentava un po' più brillante ai blocchi di partenza, ma non avevi tutti questi impegni che avrai quest'anno, quindi la scelta giustamente è stata quella magari di cominciare in maniera meno dirompente, per avere più benzina poi nelle prossime partite in fondo alla stagione, e questo è chiaramente l'importante, poi per chi parlava di un Inter troppo lezioso, con troppi colpi di tacco al limite dell'area, io devo essere sincero, sì è vero, un po' di giocate le abbiamo provate, siamo stati magari troppo leziosi da quel punto di vista negli ultimi metri, nelle ultime scelte, però c'è da dire anche che non sono d'accordo con chi parla di un Inter sprecona, perché un Inter sprecona è una squadra che sciupa davanti alla porta 6-7 palle gol e vince 2-0, allora lì sì si può parlare di Inter sprecona, ma se alla fine andiamo a vedere i tiri in porta dell'Inter, ne ha fatti 3 in porta contro il Lecce, i due gol, e il tiro di Darmian che stava facendo il secondo gol, penso sì, in porta solo il tiro di Darmian, è stato poi l'occasione, quindi è quello di Turam poi anche nel secondo tempo, quindi di gol mangiati veri e propri, mi ricordo quello di Turam davanti alla porta con la palla di Barella, basta, cioè quello di Arnautovic di testa non è proprio un gol mangiato, il tiro di Di Marco e poi la ribattuta di Barella con il salvataggio sulla linea del difensore, non è proprio un gol mangiato, cioè comunque sono tutte occasioni date dalla manovra offensiva dei ragazzi, però di occasioni nitide mangiate, non ne ho viste a parte quella di Turam, quindi non si può parlare di un Inter sprecono, un Inter magari cinica invece che le occasioni che ha avuto, è stata brava a capitalizzarle tutte, con un grande amatoio Darmian che ha fatto una partita perfetta, eccellente in entrambe le fasi, galvanizzato poi dal gol al quarto minuto, e quindi abbiamo trotterellato, è difficile fare anche i migliori e i peggiori, abbiamo giocato in maniera buona, convincente, certo ripeto ancora, è sempre il calcio di agosto, quindi è giù è normale che magari certe trame offensive non siano arrivate subito, magari qualche filtrante sbagliato anche dalla mediana, ma ripeto ancora comunque, il segnale è forte, i ragazzi hanno fame, e si vede dall'esultanza di Frattesi contro il Genoa, si vede da un Marcus Turam che si butta a peso morto sulla vetrata del settore ospite di Marassi, si vede da un gruppo che, mentre gioca, canta i cori della Nord, perché vi sembrerà strano, ma veramente, a me vedere bastoni che si mette a cantare in giro l'Italia per te, mentre batte la rimessa laterale, a me, Gaza come un pazzo, poi voi non l'avete visto, io l'ho visto un pezzo nel secondo tempo, però veramente, cioè, è una squadra che continua ad avere quel mordente che qualcuno pensava fosse sparito, invece è sempre rimasto, e questo è l'importante, perché un Inter che dal punto di vista del gioco c'è, dal punto di vista della fame c'è, quindi bisogna soltanto che essere soddisfatti del lavoro che sta facendo il mister e della condizione dei ragazzi, che poi pian piano prenderà sempre più piede, quindi siamo solo alle prime due di campionato, è sempre calcio di agosto, adesso con l'Atalanta, venerdì, sapremo di più, sarà un test più attendibile sulle ambizioni sul campionato che farà l'Inter, diciamo che ecco, la prossima giornata ci dirà di più, ci dirà di più, il primo big match ci dirà di più sul futuro della stagione, quindi, contando che un'Atalanta che ieri ha perso col Torino all'Olimpico, un grande Torino, un grandissimo Torino, una partita combattutissima, mi è piaciuta tantissimo, poi nel primo tempo meglio forse l'Atalanta è partita più forte con un grandissimo gol di Reteghi, attenzione Reteghi quest'anno al fantacalcio, continuo a dirlo, un altro giocatore che potrebbe essere valorizzato al massimo da Gasperini, le qualità ci sono, ha andato vicino anche alla doppietta nel secondo tempo con la traversa, e poi però, e poi un Torino comunque che è rimasto sempre in partita, nel primo tempo ha attaccato, è stato più accorto dietro, poi nel secondo tempo con Vanoli, si è spinto il Torino all'attacco, un Torino arrembante nel secondo tempo, se nel primo tempo era più accorto dietro con qualche ripartenza, nel secondo tempo invece è stato un grande Torino che ha messo in difficoltà l'Atalanta, che poi ha dovuto attaccare gli ultimi 20 minuti con Samarzic, con quel rigore lì, Lazzaro che stava combinando una frittata, meno male che Milinkovic-Savic ha tolto il rigore di Pasalic, ha fatto una grande parata con la mano di richiamo, insomma, l'uomo copertina di questi tre punti con un Zapata che ormai insomma conosciamo, da centro boha il grande lavoro che fa, ma un Cee Adams veramente, veramente, sugli scudi ieri, ha fatto una super partita, nonostante il gol, poi il lavoro che offre anche per, come collega ai reparti, insomma, l'Atalanta che ha un potenziale di squadra incredibile, comunque visto che, il Torino di Vanoli, ragazzi, non è, infatti con il Milan meritava di vincere, cioè con il Milan a San Siro, il Torino meritava di vincere almeno 2-3-0, ma senza se, senza ma, quindi, il Torino, per la rosa che ha, visto che, voglio dire, ha venduto Bellanova, ha campionato già iniziato, ha venduto Buongiorno, ma su Buongiorno ci poteva stare, perché alla fine, quando uno vale 25-30 milioni, giù di lì è giusto anche cederlo per fare cassa, però su Bellanova, secondo me, fanno bene i tifosi a incazzarsi così, contestazione, 5.000 tifosi in piazza, fuori dallo stadio contro Cairo, e per la rosa che ha, Vanoli, veramente sta facendo un capolavoro, il Torino gioca bene, gioca bene, viene a pressare, e poi Ilic, a me è un giocatore che piace tantissimo, anche dai tempi del Verona, e quindi, il Torino ha vinto, meritatamente, con un secondo tempo, dove non ha fatto vedere la palla l'Atalanta, a parte poi, gli ultimi 20 minuti, dove, ovviamente l'Atalanta, doveva reagire, in qualche modo, comunque, questi erano, diciamo, gli ultimi, gli ultimi dettagli, sulla partita, contro il Lecce, ora, ora, Taremi, che ieri, ha, che sabato, è entrato per la prima volta a San Siro, e io avevo detto, adesso, Taremi scoprirà il tifone razzurro, finalmente, no, inizierà a capire, cosa vuol dire giocare a San Siro, che tifosi si trova davanti, infatti, guardate qua, il post di ieri, Taremi, dopo la partita, parla, La prima partita resterà per sempre nei miei ricordi, sono rimasto scioccato da questo stadio leggendario, dall'atmosfera creata dai suoi incredibili tifosi, spero di poter celebrare tante altre vittorie assieme, Milano è sempre nero azzurra, beh, direi che l'arciere persiano si è integrato al meglio, direi che si è integrato, poi quel Milano è sempre nero azzurra, poi, al bacio, si è integrato al meglio, sono rimasto scioccato da questo stadio leggendario, e dall'atmosfera creata dai suoi incredibili tifosi, noi ce l'aspettavamo che comunque rimanesse un po' scosso, da un tifo che, ripeto ancora, è, secondo me, il fattore determinante dei successi nerazzurri degli ultimi anni, ma un Taremi che, come abbiamo visto anche dalle dichiarazioni di Bastoni, mancano 37 partite, esultanze di Turam e Frattesi, le dichiarazioni post partita di Meditare, mi doveva detto, mi devo ancora migliorare, secondo me hanno fatto una partita buona, è un grande segno di umiltà, ma soprattutto un grande segno di un Inter che ha fame, un Inter che è famelica, e questo è l'importante. Poi, abbiamo visto poi anche durante la partita, a me la cosa che mi ha stupito tanto, è vedere come ormai si sa, perché nell'Inter di Inzaghi tutti sanno fare tutto, e questo è un elemento chiave nelle grandi squadre, perché hai visto per esempio nel secondo tempo, quando addirittura in certe azioni hai visto Acerbi andare in avanti, ma non è la prima volta, anche l'anno scorso si vedeva un Acerbi quasi seconda punta, ma non tanto per un fatto di gestione scelerata tattica, ma proprio un fatto che tutti sanno fare tutto, e quindi anche uno come Acerbi si trova in una posizione offensiva, gioca da seconda punta, stessa cosa Pavard, Pavard si è spostato quasi da centrocampista nel secondo tempo, con Barella e Ciala sulla linea dei difensori, cioè è stata importante anche questa, che non è stata una mossa tattica, perché comunque si erano trovati lì per caso, però hai visto un po' come tutti sappiano fare tutto, come Pavard, poi abbiamo anche i piedi ducati da giocare in mezzo al campo, è una cosa che poi nelle varie trasmissioni calcistiche chiaramente non ne parlano, però per qualcuno che ne sa un po' di tattica vengono subito incartati. Quindi ragazzi, poi arriviamo quindi adesso alle notizie di mercato, arriva oggi il colosso di General Pico, finalmente è fatta per Palacios, ieri arrivato a Milano, atterrato a Linate, con una faccia bella incazzata, abbiamo messo anche il post in community, una faccia veramente bella incazzata da Inter, davvero profilo famelico con le palle, benvenuto Palacios, durante la mattinata effettuerà tutti i test fisici e medici all'Humanitas, poi idoneità sportiva al CONI verso l'UNA, comunque in mattinata primo pomeriggio, poi oggi pomeriggio andrà bello tranquillo a firmare il contratto in sede, ricordiamo un contratto quinquennale da 600 mila euro all'anno, ricordiamo l'operazione, 6 milioni e mezzo all'indipendente, al tagliarescio, più 5 di bonus, eventuali proprio forse anche con la conquista del ventunesimo, detto ciò, quindi poi domani penso verranno fatte tutte le ufficialità sul profilo, magari nei prossimi giorni, comunque detto ciò, Palacios è un nuovo giocatore dell'Inter, benvenuto Thomas, un'altra torre quindi per la difesa del futuro dell'Inter, per l'Inter che verrà con un Bissec alto, 1,81, 1,91 Bissec, quant'è alto Bissec? 1,91. Comunque, 21 anni, anche per Palacios, coetaneo quindi di Bissec, con l'Argentino che è alto 1,85 m, cioè, no, tocca 2 metri per soli 4 cm, quindi, è alto 1,96 m, Palacios è alto 1,96 m, e udite, udite, cosa sto leggendo dalla gazzetta, a 13 anni, era alto già 1,85 m, paura, prorompenza fisica anche per Thomas, ma soprattutto un giocatore che non ha paura a spostarsi in avanti, a fare un po' di azioni personali, una grande intraprendenza, alza la testa, gioca, sempre pericoloso, si spinge in avanti, e poi abbiamo visto anche l'uno contro uno, come non ti lascia respirare, un colpo veramente potenziale, un potenziale giocatore importante, vedremo come crescerà sotto le ali e le grinfie del mister e del demone, però già avere comunque due torri come Bissek e Palacios, nell'Inter che verrà, vuol dire tanta roba, e qui, con i 600 mila euro di ingaggio, sta a rimarcare come la operazione di Hermoso sarebbe stato infattibile, con un giocatore che ti chiedeva praticamente 30 milioni lord in tre anni, come si faceva ad avallare queste condizioni, era impossibile, quindi anche qui basta sputare merda, sputare fango sulla proprietà che deve valutare da fondo delle operazioni anche convenienti, non soltanto dal punto di vista dell'età, anche convenienti, perché non è che ti riguarda soltanto la carta di identità, è una grande cavolata, quindi per un giocatore come Palacios hai fatto un'operazione intelligente, il cinquantesimo argentino della storia dell'Inter, che viene da 16 partite da titolare con l'indipendiente di Davide, poi ha già fatto la sua esperienza nell'Argentina Under 20, giocando 5 presenze con 3 dall'inizio, ha sempre giocato come bracciato di sinistra il suo ruolo principale, è stato schierato con grande fiducia di lui da parte di Ciavier Mascherano e che anche lui poi, Mascherano ha iniziato un po' da mediano e si è reinventato come centrale, quasi come Palacios, che ricordiamo che nel 2022 ha giocato le partite durante i sub 20 e ha giocato anche in maniera più avanzata da mediano, da terzino, insomma un giocatore anche molto utile, sono curioso di vedere in campo con quel 42 sulla maglia a casa, e ripeto ancora, può diventare un numero bello singolare, un numero iconico per la retroguardia Nerazzurra, dopo il 31 di Bisse, il 95 di Bastone, il 42 di Palacios, quindi complimenti alla dirigenza che nonostante le difficoltà dell'operazione con due club che ne detengono il cartellino, un'operazione, ripeto ancora, internazionale, quindi una trattativa che richiedeva molto tempo con i permessi di lavoro, le trattative fuori dall'Europa, quindi un sacco di problemi e di diciamo imprevisti dietro l'angolo, ma invece un Inter che ha saputo gestire la trattativa nel migliore dei modi, complimenti al al mercato, ripeto ancora, secondo me manca ancora una punta capace di saltare l'uomo, un posto di correa che dia quell'imprevedibilità che ci manca come quarta punta, come vice più come vice Turam dal punto di vista delle esigenze, ma più come vice Lautaro dal punto di vista delle caratteristiche, perché ci serve un giocatore giovane, veloce, con il tiro da fuori un po' come Lautaro, ma che salti l'uomo come Turam e che vada in velocità come Turam capace di sbaragliare le linee difensive dalla panchina, quindi ci vuole un Federico Chiesa, un Sebastiano Esposito, un Nico Williams, faccio un esempio con i profili lì, ci vuole un ma anche un Lauriente volendo che a me non piace, però come caratteristiche da orientese secondo me tanto ti è guadagnato al posto di Correa, cioè ma tutta la vita ci serve assolutamente una ci serve diciamo un giocatore incontenibile che ti manda fuori di testa con i dribbling, per esempio il Napoli che ha preso Neresh secondo me ha fatto un grande colpo, Neresh è un giocatore che a me piace secondo me è quello che ci serviva, Neresh secondo me ci serviva veramente, come quarta punta veloce anche hai visto poi è entrato ieri ha fatto sei minuti e ha già messo l'assist per Simeone è un giocatore che ha gli strappi ha un grande passo è forte anche tecnicamente il Napoli con Neresh secondo me ha fatto un bel acquisto comunque quindi un po' peccato mancava secondo me manca secondo me un tassello davanti detto questo poi sul mercato non possiamo dire nulla l'Inter è più forte dell'anno scorso come ho sempre detto continuiamo a battere ferro su questa cosa qua che l'Inter è più forte dell'anno scorso si è rinforzata nei reparti giusti ha ringiovanito la difesa nonostante rimangano ancora Acerbi De Vrij e Darmian ma se Darmian è vecchio è quello di sabato ma tutta la vita Darmian ha 40 anni ma di cosa stiamo parlando se i tristoni che parlano di un Mkhitaryan vecchio è quello delle ultime stagioni ma tutta la vita Mkhitaryan fino a 50 anni ma di cosa stiamo parlando se si parla di Acerbi vecchio decrepito e poi è quello degli ultimi anni ma dovete solo tacere davanti a queste prestazioni di professionisti seri comunque è già tanta roba arrivare già con Bissek Palacios l'anno prossimo si farà il tutto e per tutto per andare a prendere un altro braccio di sinistra magari poi da trasformare in centrale spica come sempre sapete benissimo come vi ho sempre detto il nome di Scalvini che è il numero uno sulla lista che l'Inter l'anno prossimo affonderà il colpo per prendere quindi con un David l'anno prossimo a zero si potrebbe magari fare un tentativo a gennaio per rinforzare la David è quello che ci serve cioè David sarebbe la ciliegina sulla torta peccato perché comunque avendo la cittadinanza canadese e statunitense non possiamo prenderlo già quest'estate con una cifra di più o meno 20 milioni non penso che ecco che sia fosse stato un ipotetico investimento per questa sessione di mercato però comunque per lo slot extracomunitario non puoi andarlo a prendere a gennaio sarebbe un grande colpo ma ricordiamo che l'Inter comunque adesso ha ancora Buchanan che sta aumentando sempre gli sforzi e il rendimento di recupero e chi lo sa magari potrebbe tornare a disposizione proprio a novembre quindi facendo grandi passi da gigante e arrivando prima in condizione un Buchanan che veramente sarà l'arma letale degli ultimi mesi di campionato e di stagione un giocatore vabbè a parte che è un attaccante aggiunto perché per i movimenti che fa e per la fase offensiva scoppiettante è un attaccante aggiunto vedi per esempio Buchanan dal punto di vista dei dribbling è quello che ci serve davanti cioè ci serve uno che ti manda fuori di testa con i dribbling l'uno contro uno come Tejon Buchanan quindi Buchanan sarà veramente un punto di forza che servirà in aiuto all'Inter negli ultimi mesi di campionato un vero crack secondo me potenziale crack della fascia destra che si prenderà ipoteticamente la titolarità nei prossimi anni detto questo Dumfries rinnoverà dopo la sosta quindi adesso sarà l'unica cosa da vedere insomma valutare la la condizione di Lautaro che oggi si è allenato a ieri si è allenato a parte nella rifinitura nella rifinitura nella nel carico dell'energia in vista della partita con l'Atalanta si è allenato a parte oggi si avranno più indicazioni sul suo impiego in vista della partita con l'Atalanta di venerdì diciamo che ecco non sono sono buone ma non buonissime le condizioni del capitano da come riporta anche il corriere non ci sono lesioni questo è importante si parla forse di una leggera elongazione all'aduttore ma non abbiamo ancora la certezza l'ufficialità detto questo quindi il capitano resta ancora in forte dubbio per la partita con l'Atalanta speriamo di recuperarlo anche per ritornare ecco a governare quella zona offensiva di cui lui ormai è il re re di Milano capo di Milano padrone di Milano nonché anche padrone d'Italia il capitano da pallone d'oro Lautaro Javier Martinez con il secondo nome Javier che è un segno del destino è un segno del destino e poi ragazzi l'ultima cosa non ho parlato un po' della Roma ieri che ho visto anche la Roma allora detto questo ragazzi continuo a ripetere siccome il problema era Murigno no perché ho sentito che il problema doveva essere Murigno la vergogna della Roma uno schifo Murigno di qua Murigno di là due partite della Roma con Cagliari e Empoli una roba vergognosa cioè con l'Empoli primo tempo ha dominato la squadra toscana dominato Fazzini con la 10 sembrava Maradona Esposito nel secondo tempo gli ha fatto ballare la Samba nel primo tempo la Roma non ha fatto un cazzo secondo tempo è normale ha iniziato a attaccare in maniera proprio totalmente confusionale una reazione un po' di inerzia un tiro traversa di Pellegrini poi ribattuta di Mancini Dobvik un pesce fuor d'acqua veramente cioè Dobvik ho visto veramente male è un gioco che non ha né capo né coda secondo me formazione sbagliata centro campo ancora con Cristante dopo che hai fatto mercato beh a me veramente sembra sembra surreale cioè voglio dire tutti i casati come sempre tutti i casati di qua andiamo famo gli ediamo gli edisfamo poi figura di merda atomica con un Empoli che poi nel secondo tempo ha saputo chiudersi bene è ripartito e ha vinto 2-1 poi è entrato meglio Shomurodov ha fatto 20 minuti di livello più alto Shomurodov che Dobvik cioè Dobvik l'ha pagato 40-50 milioni è giusto per dare un attimo un giudizio cioè Baldanzi è entrato meglio di Sule sicuramente ma la Roma è una squadra che non ha né capo né coda cioè giocatori a caso poi ha giocato con due seconde punte Dobvik ha giocato con Dybala Sule insieme totalmente confusionari sembrava l'Italia di Spalletti sembrava sembrava l'Italia di Spalletti con Dobvik davanti non azzeccano stop cioè veramente la Roma veramente male io se devo essere sincero quella che ho visto peggio di tutti è proprio la Roma in due giornate di campionato quello che ho visto il Milan non fa testo però la squadra peggiore delle prime due di campionato secondo me è la Roma no ma siccome il problema era Murigno dico adesso saranno contenti i grandi gli anti-Murigno era Murigno il problema sì sì tanto a Murigno non gli avete mai fatto un mercato però da da cento e passa milioni Dobvik Lefe sulle non si ha mai con Murigno doveva giocare con con Dybala sempre spaccato Smalling col crociato ma di che cazzo stiamo parlando dai dovete solo ringraziare un allenatore come Murigno vergognatevi vergogna c'è solo da ringraziare un condottiero che vi ha fatto entrare nella storia per una tifoseria di basso livello una squadra di basso livello come la Roma con pochissime ambizioni dovete solo ringraziare Murigno veramente che vergogna che vergogna bene così bene così se lo meritano d'altronde se lo meritano detto ciò quindi sempre forza Int ci vediamo al prossimo video ragazzi un like iscrivetevi al canale mi raccomando sempre attivi sul canale con le prossime edizioni giornaliere un saluto sempre attivi Instagram Youtube like iscrivetevi al canale barzacon.it nuove news e battito inter.it testata giornalistica di sana informazione sul biscione ciao ragazzi amola